Rossini TV è tornata ad accendere le sue telecamere su Galleria Roma, lo fa di nuovo a ruota di alcune segnalazioni di residenti e persone che transitano in questa zona. Soprattutto in questi giorni di chiusura delle attività del 25 e 26 dicembre si acuita la problematica sociale e di sicurezza che gravita in questa zona, quella di diverse persone responsabili e protagoniste di episodi di ubriacchezza molesta, di accattonaggio, comunque di accampamenti in questo luogo del centro storico, problematica che si acuita soprattutto nei giorni di minore transito, quello di chiusura delle attività come quello del 25 e 26 dicembre. Sono passate solo poche settimane da quando proprio in questa zona, ai margini della Galleria, si era verificato un grave episodio di collutazione con tanto di accoltellamento di una persona. La situazione però, nonostante il continuo monitoraggio delle forze dell'ordine, continua a presentare situazioni critiche e di degrado fin dalle prime ore del mattino. A radunarsi qui sono persone soprattutto senza fissa dimora, persone affette da dipendenze, tra l'altro conosciute dalle stesse servizi di politiche sociali delle comune di Pesaro, come ci ha confermato l'assessore Riccardo Pozzi, assessore alla sicurezza delle comune di Pesaro, persone che tra l'altro non passano inosservate fino al punto di lasciare tracce di sé anche sull'albero di Natale posto sulla Galleria Roma con messaggi che lasciano poco spazio ad altri commenti. Abbiamo sollecitato lo stesso assessorato alla sicurezza del comune di Pesaro per comprendere quali accorgimenti si possono apportare su questa zona sensibile e la risposta è stata attraverso una nota avviata dal comune di Pesaro in cui si legge che due settimane fa il sindaco stesso ha chiesto un incontro a questore e prefetto e durante la riunione a cui hanno partecipato anche l'assessore alla sicurezza Riccardo Pozzi e la comandante della polizia locale Francesca Muzzini è stata sottoposta la problematica e analizzati gli interventi praticabili. Dunque sono stati intensificati passaggi di forze dell'ordine e di polizia locale per monitorare la situazione ed emanati diversi ordini di allontanamento. Nel frattempo, insieme all'assessorato alla solidarietà e al coordinamento della TS1, l'amministrazione ha sottoposto la situazione al Dipartimento delle Dipendenze Patologiche di Asur chiedendo di riprendere gli interventi di tipo sanitario, in particolare i progetti di bassa soglia. Si tratta di servizi e trattamenti flessibili basati su bisogni individuali degli utenti e rivolto a coloro che non stanno più seguendo le attività di recupero ma che necessitano di un sostegno. Un monitoraggio costante e un intervento su più linee che l'amministrazione comunale di Pesaro si augura possa dare supporto a chi è in difficoltà e allo stesso tempo migliorare il decoro della città.